Benvenuti a Salute e Sanità da Eva Perasso, il nostro talk show sui temi del benessere, della salute e della persona. Oggi in particolare parliamo di dieta e di sport con una serie di ospiti che ora vi presento. Partiamo dalla mia a destra, Stefano Manara, responsabile lo studio radiologico Manara, il buon Fabio, Fabio Denunzio, attore, lo abbiamo visto a striscia la notizia, lo ringraziamo perché ogni tanto ci viene a trovare quando passa dalla nostra città da Genova e invece alla mia sinistra il dottor Giampiero Pallenzona, medico dello sport e accanto a lui il dottor Stefano Piscionieri, chiedo scusa, biologo nutrizionista. Vi ringrazio per aver accettato il nostro invito, oggi si parla di dieta, è il periodo dell'anno in cui un po' si comincia a fare i conti con magari qualche chilo accumulato durante l'inverno, qualche stravizio che dopo le feste abbiamo continuato a mantenere. In realtà la dieta non è solo dimagrire o essere in forma, prepararsi alla prova a costume, ma la dieta significa un modo di vivere, uno stile di vita corretto. Allo stile di vita alimentare si accompagna sempre e lo vedremo con il nostro medico dello sport, ovviamente una sana attività fisica che sia calibrata a seconda dell'età, del sesso, delle abitudini e così via e le chiederemo dottore, le farò parecchie domande su questo. Parleremo anche di diagnostica, ci sono degli esami fondamentali da fare, non ci si può improvvisare per esempio con una dieta che sia dimagrante o che sia semplicemente per raddrizzare uno stile di vita poco corretto e al buon Fabio chiederemo ovviamente di raccontare la sua esperienza, tanto gli faccio i complimenti perché ha perso un sacco di chili da una volta che ci siamo visti. Sto perdere un po' di peso. Bene, io parto subito, abbiamo qui un biologo nutrizionista che dobbiamo sfruttare il più possibile la dieta, perché è fondamentale seguire un giusto regime alimentare? Giusto perché è alla base della salute, se noi abbiamo una sana alimentazione, viviamo meglio, abbiamo uno stato di salute migliore e poi è importante sapere quanti carboidrati di mangiare al giorno, le proteine, i grassi, quindi per, se facciamo ad esempio sport, avere una performance migliore o anche una composizione corporea migliore. Si cade sempre nell'errore di pensare che la dieta sia la dieta dimagrante, che si debba seguire una dieta per dimagrire, non è così? La dieta in sé è un modo di vivere, nel senso la dieta solo per dimagrire può essere uno dei possibili obiettivi. Io vado da un professionista, voglio dimagrire per il peso eccessivo che ho, innanzitutto comunque l'obiettivo è quello della salute che comunque la persona deve mettere secondo me in primis, ma non si ci può basare solo su quello anche perché il problema poi è un discorso di tra virgolette mantenimento che a parer mio non è una parola adatta anche perché il paziente deve imparare, perché se impari è più facile gestirti da solo. Ci si rivolge da un professionista per iniziare, ok una dieta, un piano alimentare, diciamo come dare il via diciamo alla cosa, però poi il paziente nel percorso deve comunque imparare da solo a gestirsi. Ci sono casi dottore in cui il sovrappeso non è più sovrappeso ma è obesità e questo si dura? Lì giustamente ci vuole un lavoro multidisciplinare ovviamente di equip e lì poi anche lì magari lo psicologo gioca un ruolo fondamentale perché sono patologie complesse quindi ci vuole una serie di professionisti che devono aiutare comunque il paziente a raggiungere il suo obiettivo che poi è la salute. Certo, quello che è fondamentale dire è che quando c'è un forte sovrappeso, un grado di obesità per esempio si corre il rischio, cioè il rischio di poi incorrere in altre patologie di ogni tipo è molto molto più alto, questo è un messaggio che è importante. Sì, quello è importante perché se comunque una persona ha un'alimentazione squilibrata e ha magari una predisposizione allo sviluppo di determinate patologie, parliamo magari di patologie metaboliche si può andare incontro a problemi seri, quindi è meglio prevenire. Cerchiamo di prevenire in modo da, nel possibile, di frenare l'arrivo di una determinata patologia oppure se la patologia è presente e diagnosticata dal medico si prepara un bel piano alimentare, una bella dieta in modo da iniziare un percorso atto sia alla perdita di peso o quant'altro ma proprio a migliorare il proprio stato di salute e quindi magari far cercare di far rientrare determinati parametri ematici, queste cose qui. Insomma, il lavoro è complesso e però se uno si mette di impegno e si fa aiutare dalle persone giuste riesce a raggiungere l'obiettivo sicuramente. Ecco, non a caso siamo qua apposta e chiedo a Fabio Denunzio che rispetto al tema del sovrappeso, del peso in eccesso eccetera è diventato un po' parte del tuo lavoro, nel senso che ricordiamo tre libri sotto il segno della bilancia, tre e l'ultimo sta arrivando già la quarta edizione di questo testo, tu ti sei occupato molto del problema dell'obesità. Io diciamo che in questo libro è l'unico libro in Italia che difende le persone obese dalle discriminazioni, dalle barriere architettoniche e anche dalle forme di bullismo, è l'unico libro in Italia che parla anche di dieta mediterranea abbandonata nello stesso tempo, naturalmente è scritto da un nutrizionista e sto facendo insomma una serie di interventi all'interno delle scuole e quello che accade parlo scuola elementare media e superiore è veramente da mettersi le mani dei capelli perché io faccio i sondaggi e dico ai ragazzi, ai bambini, beh cosa avete portato per merenda oggi? Il 90% ha portato o panino con salame o patatine o crosticini insomma eccetera eccetera dico ma c'è qualcuno che ha portato la frutta? Di solito sono uno, due in un'intera classe quindi questo avviene dal nord al sud Italia, ovunque è la stessa cosa ecco la cosa strana è che quando vai all'asilo ti insegnano a mangiare in maniera sana per dire, in maniera sana, un giorno per dire mangi la frutta, un giorno per dire il pezzo di pizza un giorno il pane e pomodoro, cioè proprio è una cosa bilanciata e i menù delle mense scolastiche perché andando avanti in realtà non cambiano inizia l'aprile alimentare e diventa terra di nessuno, cioè si porta di tutto escluso un cibo sano e quando c'è il bambino che porta il cibo sano per dire la mela e sente accanto le patatine che scrocchiano in bocca agli altri, il profumino che esce è chiaro che diventa difficile per i genitori fargli continuare i famosi scambi, sapete che c'è un mercato nero delle merendine ad esempio nelle scuole, in tutte le scuole d'Italia bisognerebbe togliere tutte le macchinette di merendine, patatine, bevande gassate e incominciare proprio dalle scuole e portare le macchinette che distribuiscono frutta, verdure e acqua naturale cioè incominciare veramente dalla prima elementare a fare questo portare i nutrizionisti all'interno delle scuole e far capire cosa vuol dire mangiare sano e perché devi mangiare sano, quanto bene ti fa e diciamo che ogni tanto in qualche scuola qualche preside è una cosa sua personale lo fa, però non è una regola, deve entrare come regola e l'altra regola che dovrebbe entrare, ecco proprio per lo sport ad esempio tutte le palestre delle scuole dovrebbero essere aperte il pomeriggio dare possibilità a tutti i ragazzi che non hanno, diciamo, hanno problemi economici le famiglie e non possono iscrivere in palestra di farli andare a scuola, nelle palestre, farli fare sport qualsiasi tipo di sport, l'importante è fare sport aprire tutte le palestre delle scuole per dare possibilità di, uno, di fare sport, di socializzare perché molte volte sono figli unici e quindi stanno da soli perché quando rimangono a casa stanno lì davanti al loro videogioco collegati con la cuffietta e parlano con i loro amici seduti a una sedia mentre prima noi, diciamo, ragazzini dovevamo scendere da casa andare a citofonare l'amico e giocare per strada oggi per strada non si può e allora stanno in casa non possono andare in palestra perché costa e allora apriamo le palestre delle scuole e cominciamo a fare qualcosa di reale perché oggi circa il 36% dei bambini è obeso è tendente all'obesità, sono numeri spaventosi nel sud Italia certamente la campagna è al primo posto da questo punto di vista però anche nel nord Italia ormai sta aumentando il discorso di obesità infantile quindi bisogna veramente intervenire intanto sui bambini togliendo gli adulti giustamente devono essere seguiti però i bambini bisogna dare la possibilità di muoversi di giocare e di fare sport e socializzare è vero, i temi sono questi assolutamente bisogna partire già dall'infanzia e sono certa che i nostri dottori qui presenti siano d'accordo ci rivediamo tra poco diamo spazio alla pubblicità restate con noi su Telenord Bentornati a Salute Sanità da Eva Perasso stiamo parlando di dieta e sport per vivere in salute non solo per dimagrire ma anche in caso ci fosse bisogno ci fossero casi di sovrappeso o di obesità è difficile, dottor Piscione ne stavamo parlando mantenere una dieta perché ci si stufa? l'ha detto durante la pubblicità per il problema è essenziale che le persone dopo un tot anzi subito vogliono avere risultati diciamo la perda di peso però dopo un po' il piano alimentare, la dieta diventa pesante da seguire perché è lì allora sta lì forse la bravura sì esatto di cercare di capire il momento giusto da dire guarda fai così perché sennò perdiamo la strada ok? non ti preoccupare fatti seguire ti piace quella cosa? li mangiala è inutile certe volte dare tante piccole cose tutti i giorni quindi quando si studia un piano alimentare per un paziente si tengono conto, si tiene conto del gusto? si tiene anche del gusto si tiene conto anche se fanno dei turni di lavoro insomma in base a tutte le esigenze proprio a 360 gradi perché poi lì sta la persona a seguire deve seguire quindi bisogna agevolare il più possibile insomma il percorso comunque il piano alimentare insomma deve essere comunque fatto in maniera insomma precisa che il paziente non abbia difficoltà deve essere una cosa lineare personalizzata non deve io dico sempre non ci dovete pensare deve essere una cosa scorrevole domani ti piace mangiare quella cosa lì bene mangiala poi riprendi come nulla fosse tranquillo l'abbandono della dieta è il cosiddetto effetto yo-yo così si chiama quindi riprendere chili persi per poi risalgrire e risgrassare è molto diffuso perché certo perché a parer mio si fa la dieta il foglio di carta si chiede per un tot tempo e poi ci si stufa basta e poi si ritorna a mangiare male come prima e invece è lì che bisogna lavorare qualche trucco per non smettere di fare la dieta bisogna lavorare nel fatto non privare cioè non fare non vietarsi ora ovviamente se uno ha dei problemi di salute importanti ovviamente lì non puoi più drastica non puoi certo perché se una persona ha una patologia deve seguire quello che il professionista gli dà come segue la terapia del medico segue anche la dieta data dal dal professionista dal biologo nutrizionista però poi ci si arriva a un punto che la persona spesso si proprio si stufa e allora lì devi cercare di invogliarlo devi cambiare devi nel sano è più facile ovviamente questo discorso Fabio denunzio quante volte hai abbandonato una dieta beh due volte sicuro due volte perché e in quelle due volte è stato perché ne hai persi per dire 15 ne hai presi quei 25 è matematico questa cosa sia la prima che la seconda volta questa è la terza volta e ho detto no in bocca al lume no non devo riprendere partiamo devo scegliere senza riprendere assolutamente noi ti rinviteremo per controllare che tu sia riuscito nel tuo obiettivo adesso basta Dottor Manara l'abbiamo detto all'inizio all'inizio della dieta è bene comunque non lasciare niente al caso quindi i controlli medici sono la prima cosa da fare che cosa consigliate per cominciare prima di cominciare una dieta come dicevamo prima la dieta per perdere peso cerchiamo la dieta per stare in salute per stare in salute bisogna sapere anche cosa ci sta girando nel sangue quali sono diciamo cosa ci manca cosa abbiamo in eccesso e per far questo esami del sangue insomma alcuni un check up iniziale importante per sapere poi su cosa lavorare la dieta diciamo la possiamo usare sia per chi vuole dimagrire ma sia anche per lo sportivo che vuole aumentare la sua resa quindi vuole andare a vedere come far rendere meglio la sua macchina e per questo c'è il medico dello sport nutrizionista siamo tutti coinvolti ecco è importante Dottor Manara lavorare in team mi sembra di capire che poi quando un paziente per esempio arriva da voi venga seguito da una squadra certo noi cerchiamo di spingere anche chi viene per fare la visita dello sport a cercare di capire tutto l'insieme cioè non solo il foglio di carta che ti abilita a fare la diciamo l'attività sportiva ma per la salute fare un check e vedere di cosa hanno bisogno quali sono i propri un altro esame che voi consigliate che consigliano i medici è la bioimpedenziometria si se ne occupa il Dottor Piscioneri la bioimpedenziometria dà un'indicazione sui liquidi sulla quantità di grasso sulla quantità anche muscolare in una dieta drastica noi possiamo andare addirittura a perdere il muscolo invece che il grasso quindi facciamo l'opposto di quello che vogliamo e questo è un errore molto frequente soprattutto quando per chi vuole accade spesso soprattutto con le diete fai da te si fai da te oppure oppure con le diete diciamo un po' troppo sbilanciate su determinati maltrimenti quindi carboidrati ci vogliono ci vogliono le proteine giuste ci vogliono i grassi le quantità giuste tutto bilanciato se la dieta è sbilanciata non va bene non va bene non si può privare completamente per esempio di una categoria di nutrienti anche perché se io faccio una determinata piano alimentare dieta tutta sbilanciata su un determinato macronutriente magari si hanno degli effetti immediati però poi prima o poi gli altri macronutrienti dovrai mangiarli quindi quindi poi si riprende tutto quindi ci devono essere un circolo vizioso proteine carboidrati grassi quelli buoni soprattutto bene allora è il momento parliamo anche di sport fondamentale unire al giusto stile di vita alimentare anche un giusto stile di vita rispetto al movimento e al fisico allora proviamo a dare dei consigli a chi si approccia è il periodo dell'anno in cui e chi vuole cominciare adesso quindi arriva all'interno di un centro sanitario fa degli esami diagnostici l'abbiamo detto esami del sangue e poi eventualmente una bioimpedenziometria dopodiché ha bisogno dei giusti consigli per cominciare anche a muoversi beh sì l'attività sportiva è alla base di una sana diciamo condizione di salute per tutta la vita perché noi abbiamo spesso persone che si presentano a noi a 70 75 anni a fare le visite di unità sportiva e inizialmente noi li guardavamo un po' con un occhio un po' scettico poi abbiamo visto che aumentano sempre di più e abbiamo visto che nelle persone di una certa età l'attività sportiva che una volta era conto indedicata e demonizzata e ha degli effetti molto positivi difatti nel nostro centro abbiamo un 20% di ultra 60 anni ultra 70 anni che praticano un'attività sportiva è vero oltre ovviamente ai bambini che praticano un'attività sportiva hanno bisogno dei certificati di tonalità abbiamo oltre a questi ultra 60 anni anche di una fascia di media età che va dai 50 ai 60 anni di gente che si riavvicina allo sport che ha smesso lo sport per motivi familiari e adesso siccome ne sente il bisogno perché andando dal medico non da me ma dal medico di medicina generale ha visto che è sovrappeso ha problemi di colesterolo in eccesso eccetera eccetera o ipertensione arteriosa ha visto che facendo un'attività sportiva anche non agonistica ne trae dei benefici ovviamente questi benefici qui vanno conservati nel tempo ossia oltre alla visita nutrizionistica di base è anche importante fare degli accertamenti tipo elettrocardiogramma di base dopo sforzo ciclo ergometro eventualmente o esami impendenziometri per valutare la massa corporea che l'atleta raccontiamo la visita la cosiddetta famosa visita medico sportiva che poi sia per attività agonistiche o per attività amatoriali comunque dovrebbe avere una serie di elementi che sono comuni si parte con la visita generale di medicina generale raccogliendo l'anamnesi ossia le notizie che il paziente ha della sua salute dei suoi genitori se ha avuto delle patologie familiari che possono poi interferire con la sua salute tipo ipertensione diabete eccetera poi si passa ad una visita strumentale con elettrocardiogramma a riposo per chi fa l'attività non agonistica e elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo con la spirometria per chi fa l'attività agonistica e lì abbiamo diciamo valutato che circa il 99% fortunatamente delle persone non ha patologie rilevanti qualcuno nei bambini anche qualche patologia lo inviamo a gaslini a controllare le più tante diciamo difetti diciamo così strutturali possono essere problemi della colonna vertebrale ai ragazzini con inizio di scogliosi disturbi diciamo sull'anca certi hanno una zoppia perché hanno gli arti un po' non uguali e li vediamo ma fortunatamente nella maggior parte dei casi sono ragazzi che stanno abbastanza bene noi li invitiamo però a seguire anche una dieta corretta perché molti non mangiano bene sentendo i genitori ecco e anche qui la collaborazione tra con nutrizionista è fondamentale possiamo dire che per chi si approccia allo sport il classico sport di primavera diciamo noi sappiamo peraltro ne avevamo parlato anche in altre puntate quanto poi si venga sollecitati a degli sforzi estremi mai fatti prima e poi magari si incorre nella microfrattura da stress e così via per questo sportivo quello che si sveglia in primavera perché dalla primavera inizia a fare sport consigliamo una visita medico sportiva ha senso fare la primavera medica sportiva noi ad esempio sopra i 40 anni consigliamo sempre l'effettuazione del cicloergometro che è una prova da sforzo progressiva su una ciclette che controlla costantemente il battito cardiaco per quei 20-30 minuti necessari alla prova per cui noi escludiamo eventuali patologie cardiache perché molti ripeto hanno smesso di far sport sui 20-30 anni sono stati 10-15 anni senza fare attività sportiva poi vogliono ritornare ad un'attività sportiva paragonistica per cui noi consigliamo sempre dopo questo periodo di stand-by anche lungo di ricominciare seriamente di fare una certa oltre che gli esami autochimici colesterolo emocrome di glicemia fare anche questi certamente un po' più specialistici per escludere eventuali patologie nascoste che possono manifestarsi nello sport estremo bene continuiamo a parlare di dieta e sport per rimanere in un buono stato di salute dopo la pubblicità restate con noi ben tornati a salute e sanità da Eva Perasso stiamo parlando di dieta e sport per vivere in salute eravamo entrati nel vivo proprio della parte più sportiva col nostro medico dello sport e allora cerchiamo di capire quali sono le attività che una persona può fare non tutti possono fare tutto se adesso io decidessi di cominciare a fare un'attività fisica dopo essere stata ferma magari per un intero inverno quali consigli possiamo dare a chi è a casa? Bisogna sempre iniziare progressivamente a fare un'attività sportiva perché si calca che dopo tre settimane di inattività perdiamo quasi l'80% della motività che abbiamo preso e della forza che abbiamo preso per cui bisogna fare una cosa dolce progressiva sempre in relazione anche all'età perché uno di vent'anni può in un certo senso avere un recupero migliore di uno di 60 anni ma l'importante è quello che consiglio sempre negli sportivi sia di vecchia data che di nuova data è la costanza come nella dieta il problema dello sport non è fare dieci chilometri una volta al mese ma è farlo uno tutti i giorni e quello lì è la base di tutto anche nella dieta spesso vengono dei pazienti che si avvicinano da me e mi consigliano di andare alla nutrizionista io gli dico guardate che vi mettete in un brutto vicolo e loro mi chiedono perché guardate che la nutrizione è la cosa peggiore che c'è ma come io quando avete un'influenza una polmonita in una settimana vi curo andate da lui non so quando ne uscirete questo cosa vuol dire che la costanza della terapia o della funzione è la base di tutto natura non faccia saltus nel senso che poi ogni persona può avere dei problemi a parte i problemi però partendo da zero tutti sullo stesso scalino ci sono delle attività che possiamo la camminata per esempio Fabio ci raccontava il cammino tutti i giorni la camminata a passo veloce è quella che brucia più calorie è quella che brucia più grasso nonostante molti dicono che andando al 100% si brucia più no la camminata a passo media è quella che brucia più calorie e fa perdere più peso è stato scientificamente dimostrato certo che se uno può fare attività agonistica non può ridursi a camminare solo ma deve anche correre però camminare per un'ora tutti i giorni a passo veloce è quello che tiene in salute più di tutto poi la perdita di peso è legata a fattori in parte noti in parte non noti poi la camminata è un discorso che fa bene anche la circolazione fa bene anche la circolazione i benefici dell'attività sono davvero tanti sono davvero camminata quindi non corsa e poi cos'altro nuoto la piscina forse nuoto lo nuoto è lo sport che io considero il migliore ma un po' più problematico nel senso che una signora come lei che va in piscina per mezz'ora deve asciugarsi i capelli per un'ora e un'altra ora la perdo la corsa invece in un'ora uno se la fa e ritorna in casa finito tutto io vado in bici capisco che devo andare in cantina gonfiare le gomme andare mi ci vuole mezza giornata vado a correre in un'ora finito tutto ci sono degli sport pratici che valgono come altri sport più complicati una delle più grandi scuse infatti che noi tutti adduciamo per non fare movimento fisico è quello che non abbiamo il tempo dobbiamo andare a lavorare dobbiamo andare dietro alla famiglia è quella che è una grossa bugia il tempo bisogna sempre trovarlo lo troviamo per stare davanti alla televisione a vedere le cose spesso non utili lo troviamo a fare delle cose che non servono e un tempo per fare un po' di attività fisica due volte alla settimana minimo io consiglio bisogna sempre trovarlo tralasciando anche il lavoro e anche l'arricchimento dato dal lavoro ma se non si trova questo spazio qui per noi stessi andiamo contro i nostri interessi molta saggezza ci serve una motivazione una motivazione forte peraltro il fattore tempo è legato anche alla dieta possiamo dirlo sicuramente come bisogna trovare nel senso che quando lei poi consiglia magari di cuocere le verdure le cose può arrivare davanti alla persona che le dice ma io diciamo che non propongo cose poi estremamente complicate visto che la gente lavora insomma un sacco di ore quindi magari hanno un sacco di impegni giusto anche lo sport quindi troviamo il tempo giustamente per fare lo sport ma troviamo il tempo anche per mangiare bene perché è la base perché se mangio non bene facciamo un esempio una merenda salutare quale può essere mattina e pomeriggio cioè mezza mattinata per i ragazzi a scuola ma una cosa più banale per dire per una persona sana si porta un frutto a metà mattina un frutto a metà pomeriggio quindi tutto è basato sulla frutta no tutto è basato sulla frutta no parlo alle merende anche può essere anche cioè il concetto è che deve esserci sempre una personalizzazione io comunque la dieta mediterranea è la via migliore secondo me la migliore strada poi ovviamente in base se è sano se ha dei problemi di salute o se fa uno sport poi ancora di più lo sportivo deve avere un regime alimentare adeguato perché se no il suo sport parliamo della dieta del regime alimentare dello sportivo a seconda dello sport che uno fa bisogno di tot carboidrati tot proteine tot grassi tot micronutrienti e quindi deve essere un lavoro molto specifico questo è un concetto peraltro duro da comprendere soprattutto per i bambini perché spesso ci sono bambini che magari fanno attività anche a livello preagonistico o agonistico molto intense e non ricevono la corretta alimentazione perché forse bisogna prima magari fare un lavoro giustamente con la famiglia e comunque nel bambino la cosa principale è che abbia una sana alimentazione la prima cosa e se uno ha una sana alimentazione anche nello sport funziona bene ovviamente caso per caso non è cioè non si può generalizzare però genericamente parlando si può seguire un alimentare insomma le basi dell'educazione alimentare funzionano bene come basi poi per avere un'alimentazione corretta e quindi poi fare bene lo sport ecco piccoli trucchi dieta e sport legati insieme per esempio si consiglia di fare uno spuntino prima di andare a correre a camminare poi dopo di mangiare qualcos'altro dateci qualche qualche consiglio beh diciamo che la regola principale è quella di consumare il pasto comunque sia dalle due al due ore e mezza prima di fare qualsiasi attività fisica ossia se uno va a fare una passeggiata così tranquilla può fare uno spuntino anche mezz'ora prima ma se uno fa un'attività di impegno semilagonistico o agonistico bisogna consumare il pasto ricco di carboidrati dalle due alle tre ore prima mai prima di qualsiasi cosa io quando vengono gli sportivi mi dicono io per problemi di lavoro arrivo dall'ufficio vado a fare un'attività ho fame cosa mangio dico mangia acqua e zucchero se non passano le due ore perché il senso di fame poi viene abolito dallo zucchero e dall'acqua però la digestione viene fatta durante lo sforzo un pasto almeno due ore prima due ore prima fatto di carboidrati di carboidrati e subito dopo con cosa ci possiamo coccolare? subito dopo si può usare diciamo di nuovo i carboidrati e passare di nuovo a un regime norma alimentare con proteine e grassi normali però l'importante è l'idratazione ma soprattutto andare a fare lo sforzo con lo stomaco vuoto perché cosa succede? lo stomaco durante la digestione tira via del sangue dai muscoli e durante lo sforzo i muscoli lo richiedono quindi si crea questo scompesso spesso pericoloso anche a livello diciamo di salute per eventi gravi per cui l'attività agonistica estrema va fatta a stomaco vuoto quando c'è un senso di fame e lo dico sempre avete fame prendetevi acqua e zucchero che vi passa e poi fate l'attività che tanto è spesso una cosa idratazione anche nel corso dell'attività fisica durante le gare ad esempio di maratona tipo la mezza maratona di Genova vengono messi spesso dei gazebo che dopo 20 minuti di attività non possono bere perché l'idratazione è la base di tutto eventualmente anche l'integrazione con dei sali ha senso anche per lo sportivo occasionale i sali assolutamente durante soprattutto l'attività intensa è fatta in temperature elevate curiosità cosa bevono i calciatori con queste boracce e bevono qualcosa durante la partita che cosa ci sarà dentro probabilmente sicuramente sali non più di tanto perché li appesantisce troppo comunque allora hanno bisogno di tanta energia quindi cosa ci potrebbe essere hanno probabilmente magari lavorano prima su un discorso di maltodestrine per avere energia diciamo disponibile nel lungo periodo non è semplice anche insomma comunque a quei livelli lì l'integrazione ma anche diciamo a livello anche amatoriale così è importante poi per dire andiamo verso comunque il caldo quindi è necessario integrare soprattutto col clima caldo umido non si può prescindere di una buona e giusta integrazione e l'idratazione assolutamente però gli integratori servono e come se uno fa determinati sport ovviamente da presi in maniera giusta non in eccesso senza esagerare come tutte le cose curiosità siamo dello sport quando sempre ci sono delle squadre di calcio che arrivano a fine stagione non riescono quasi più a correre che cosa accade eppure sono allenati tutto l'anno quindi a fine stagione dovrebbe essere ancora meglio invece molte volte dicevano sono arrivati a fine stagione senza forza fisica come può succedere che una persona così allenata sia senza forza anche magari delle situazioni di sovralenamento di sovraccarico di lavoro e quindi non recuperano come per dire viene da me un ragazzo che vuole mettere su massa muscolare gli dito parte che spesso non mangiano in maniera adeguata magari fanno tre paste e basta non è sufficiente e poi comunque non hanno cioè hanno un generale magari vanno a dormire tardi non recuperano poi salivano due giorni di fila così non puoi devi lasciare il corpo riposare vai a dormire presto se tu vuoi avere i risultati ti devi un po' anche sacrificare no? quindi diciamo si è abusato troppo del fisico no sì a parte il discorso dell'alimentazione che magari non mangiano spesso non mangiano in maniera non adeguata saltano poi non sanno che cosa buttano giù perché è importante sapere che un piatto di pasta sono i carboidrati la fetina sono le progetti certi non lo sanno la cosa principale però è dirgli guarda vuoi mettere su della massa muscolare così devi assolutamente cercare di avere un sonno regolare devi comunque avere comunque uno stile di vita abbastanza tranquillo e poi ti devi riposare tu ti fai un bel allenamento a lunedì al martedì ti riposi e mercoledì anche i tempi di riposo non l'abbiamo detto ma è emerso dalla nostra chiacchiera sono fondamentali io vi ringrazio molto per essere stati con noi l'abbiamo visto dieta e sport insieme funzionano per mantenere un buono stato di salute anche eventualmente per perdere qualche chilo ringrazio Stefano Manara ringrazio Fabio Denunzio ringrazio ringrazio Giampiero Valenzona e Stefano Piccioneri per essere stati con noi ai nostri spettatori appuntamento alla prossima puntata restate con noi